Allo scoccare della mezzanotte si è aperto il bando per poter accedere ai contributi a favore delle famiglie abruzzesi in condizioni di disagio economico a causa dell'emergenza covid-19. Il provvedimento della regione prevede un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità. Le domande vanno presentate entro giovedì 23 aprile compreso. Molto stringenti i requisiti per poter accedere al bonus. Oltre alla residenza in Abruzzo il nucleo familiare non deve possedere a 7 aprile, data di pubblicazione della legge regionale, depositi su conti correnti bancari o postali e strumenti finanziari del valore superiore a 2.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.000 euro. I beneficiari inoltre non possono essere titolari di naspi, discol o reddito di cittadinanza. Esclusi anche i percettori di reddito da lavoro subordinato, pubblico o privato, di altre forme di sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici, ad eccezione dei buoni spesa erogati dal Comune. La domanda deve essere conredata con un'autocertificazione da parte del soggetto richiedente che attesta il possesso dei requisiti richiesti. Sulla base del numero delle domande pervenute, la Giunta regionale si riserva di determinare successivamente l'entità del contributo da erogare. Marsilio ha stimato un bonus che potrà essere di 1.000 euro a famiglia. L'erogazione del contributo non tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Avverrà tramite accredito diretto sul conto corrente bancario o postale della famiglia fino ad esonrimento delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro. Dopo l'erogazione dei contributi verranno effettuati i controlli sulla veridicità delle domande anche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Si tramuta in realtà un progetto che ho fortemente voluto sin dall'inizio dell'emergenza, ha dichiarato il Presidente della Regione Marco Marsilio. Questa Giunta regionale dimostra di essere accanto a quelle famiglie abruzzesi che fanno fatica, sotto l'aspetto economico, a vivere questo momento di emergenza.